Buongiorno e benvenuti a una nuova video lezione sull'Asia centrale. Innanzitutto l'Asia centrale è proprio quella regione centrale dell'Asia che si trova tra il Mar Nero e la Cina. Nello specifico i paesi maggiori sono Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan e Kirghizistan. Tutto il territorio è compreso tra due grandi catene montuose. A ovest il Caucaso con montagne che superano come il Monte Elbrus i 5.000 metri. A est invece grandi catene montuose come il Tian Shan, il Pamir e l'Indukush in Afghanistan che superano ampiamente i 7.000 metri. Non molto lontano si trovano i monti più alti del mondo, vedete come è vicino il K2 che si trova in Pakistan per l'esattezza. Al centro sulle rive del Mar Caspio troviamo invece il Bassopiano Turanico che è un'ampia pianura interrotta da rilievi collinari. Il Mar Caspio, chiamato mare, è comunque un lago ed è anzi il lago più grande del mondo. Chiamato mare appunto perché è così vasto che non se ne vedono i confini. Si trova in questa zona anche il lago Daral, un lago che si sta lentamente prosciugando. E a proposito c'è una bella animazione che mostra come nel giro di pochissimo tempo il lago Daral stia lentamente scomparendo. Perché il lago Daral scompare? Semplicemente perché quando la zona era ancora sotto il dominio russo erano stati deviati i corsi dei fiumi che si immettevano nell'Aral. Questo per rendere più fertili i campi e irrigare i campi. Il lago Daral dunque perdendo i suoi missari lentamente ha cominciato a prosciugarsi. Ora non rimane che una sorta di deserto angosciante dove troviamo anche il famoso cimitero delle navi. Tutto il paesaggio è arido e poiché gran parte della zona è molto lontana dagli influssi mitigatori dei mari Il clima è continentale con grandi escursioni termiche. Fanno eccezione i territori bagnati dal Mar Caspio dove il clima è sostanzialmente mediterraneo. Dal punto di vista storico questo luogo divenne fondamentale nel Medioevo quando era punto di passaggio della Via della Seta. Fondamentale era la città di Samarkand, vero e proprio snodo perché si recava in Cina e in India. Dopo la rivoluzione russa tutti i territori dell'Asia centrale entrarono a far parte dell'URSS, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Solo con il crollo dell'Unione Sovietica e quindi poco più di vent'anni fa sono tornati ad essere indipendenti. Un discorso a parte merita l'Afghanistan. Nel 1979 l'Afghanistan era stato invaso dalle truppe sovietiche che erano state poi costrette a ritirarsi dieci anni dopo. Il potere era stato poi preso dai talebani. Talebani che avevano istituito un regime teocratico, quindi un regime dove la religione detta anche le regole civili, ed avevano applicato il Corano in maniera molto integralista. I talebani erano famosi per imporre alle donne il burka, ovvero un vestito che le coprisse totalmente e coprisse anche il volto, quindi una limitazione di libertà impensabile ai giorni nostri. Dopo gli attentati alle Torre Gemelle del 2001, gli Stati Uniti intrapresero una guerra in Afghanistan per trovare e distruggere la rete di Al-Qaeda. Dopo la guerra degli Stati Uniti l'Afghanistan ha introdotto un regime più democratico, ma ancora oggi la situazione è molto difficile, proprio perché c'è uno scontro tra diverse etnie e tra diversi gruppi anche di integralisti islamici. Per quanto riguarda la popolazione, si concentra tutta attorno al Caucaso e nella zona meridionale, anche se, come potete notare, le città di grandi dimensioni sono molto poche. Ci sono diversi gruppi etnici e anche le lingue sono molto varie. Sono lingue di origine russa se escludiamo l'Afghanistan, dove è forte l'influsso arabo. La religione più diffusa è naturalmente l'Islam. Dal punto di vista economico, l'economia della zona è abbastanza povera, soprattutto quella dell'Afghanistan, dove domina il nomadismo, con scarse risorse naturali e strutture sociali ed economiche ancora arcaiche, ancora molto vecchie, obsolete. Sono zone anche poco collegate tra di loro e tutto questo contribuisce a renderlo uno dei paesi più poveri del mondo. Nel resto della regione è molto praticata l'agricoltura, soprattutto di ortaggi, agrumi, patate e cereali. E' proprio per favorire l'agricoltura che erano stati creati, come abbiamo già detto, dei canali di irrigazione che hanno deviato il corso dei fiumi che si immettevano nell'Aral, segnando il destino di questo lago. Molto diffuso è l'allevamento soprattutto di ovini e caprini, mentre le industrie maggiormente sviluppate sono agroalimentari per la produzione di fertilizzanti, di macchine agricole, estrattive e metallurgiche. L'Asia centrale è una zona ricca di risorse energetiche, soprattutto petrolio e gas naturale. Purtroppo però le vie di comunicazione sono ancora molto scarse. Per ora è tutto, arrivederci.